Il Festival della Comunicazione ritorna domani, gli appuntamenti cominciano dalle 10, c'è la relazione di Carlo Frecero, tutto il programma, lo ricordiamo ancora, per le connessioni è necessario, è su festivalcomunicazione.it e da domani sempre comincia anche il nostro RAI Porte Aperte. Seguiremo tutti i giorni questo bel evento, per il momento ringraziamo la nostra squadra e tutti quelli che ci hanno permesso oggi di essere qui. Grazie, linea allo studio. Grazie, noi abbiamo ancora...